Come si è visto lo scorso anno? Non bastano solamente i nomi importanti ma l'unità di intenti tra squadra, club e tifosi. Il lavoro sul mercato è iniziato prima della fine del campionato dello scorso anno, mantenendo lo zoccolo duro della scorsa stagione che ha dimostrato di poter essere competitivo per il campionato di Serie B. E poi ci siamo mossi in due direzioni, con l'innesto di giocatori importanti per la Serie B che hanno vinto il campionato di Serie B. E la seconda direzione è stata quella di mettere dentro dei giocatori giovani di grande valore e di grande prospettiva che potessero dare un contributo importante sin da subito. Ed è per questo che ci riteniamo soddisfatti considerando anche la concorrenza degli altri club. Palermo è sempre stata una piazza ambita per il calore che trasmette la gente e per la storia. Con l'avvento del City Football Group questa attrattiva sicuramente è aumentata notevolmente. E quindi tutti i calciatori che abbiamo contattato hanno avuto sin da subito la consapevolezza che Palermo per loro era una grande opportunità. Per loro Palermo è stata la prima scelta in assoluto e in assoluto per noi questa è stata una priorità. Abbiamo in rosa tutti i giocatori che hanno voluto fortemente Palermo. Sicuramente partire in ritiro con dei giocatori nuovi è determinante. È un momento di aggregazione, un momento dove la squadra si conosce bene, dove possono passare tanto tempo insieme senza avere comunque lo stress della partita. E quindi sono arrivati subito dei giocatori importanti come Ceccaroni, Lucioni, Mancuso e Insigne e dei giocatori più giovani importanti come Vasic e De Plancho. L'obiettivo era quello di mettere a disposizione del mister 22 titolari. Questo è stato un obiettivo raggiunto. Certo è che il mercato è sempre difficile, imprevedibile, in alcune occasioni come la trattativa di Lund è stata una trattativa più lunga e più complessa. Il ragazzo era impegnato con la sua squadra per le qualificazioni europee, ma lui è sempre stata la nostra scelta, come noi siamo stati la prima scelta per Christopher. Alla fine abbiamo deciso di aspettarci anche se abbiamo prolungato un po' i tempi. E poi ci sono giocatori come Henderson, Di Francesco e Coulibaly che hanno rinunciato alla Serie A. Questo conferma di quanto è grande e importante l'attrazione per il Palermo e per il City Football Group. Inoltre l'ultimo giorno di mercato abbiamo acquistato Peda, un altro giovane di prospettiva importante che rimarrà alla SPAL per un'altra stagione, per fare esperienza. E sicuramente lui è uno di quei giovani in cui il Palermo punterà per il futuro in maniera importante. Da Pigliacelli a Brunori sono lo zoccolo duro di questo Palermo. Sono stati determinanti negli anni passati. Abbiamo deciso, come abbiamo detto prima, di mantenere questo zoccolo duro della squadra per farsi dare continuità al percorso. Sono stati determinanti anche nell'inserimento dei nuovi, sin dai primi giorni si sono sentiti subito come se fossero nello spogliatoio da tantissimo tempo. Abbiamo la consapevolezza di avere un obiettivo importante da raggiungere. Se tutti sono coinvolti, lo vediamo anche dai piccoli gesti, da quando la squadra ha fatto gol l'ultima partita e tutti sono corsi ad abbracciare i compagni. Per me questo è un grande segnale, un segnale importante che può farci diventare uniti e ancora più forti. Cambia tutto. È meraviglioso lavorare in un posto del genere. Per la prima volta nella sua storia, dopo 123 anni, il Palermo ha la sua casa. Abbiamo la possibilità di lavorare in maniera ottimale. Sicuramente il centro sportivo ha bisogno ancora di un po' di tempo per essere completato. Una cosa che mi ha sorpreso e stupito veramente tanto è l'orgoglio, la fierezza dei giocatori che c'erano l'anno scorso nel vedere la differenza del modo di lavorare tra l'anno scorso e quest'anno. Ho avuto il privilegio di giocare anche con Eugenio a Palermo in Serie A. Già da allora era un grande uomo, un grande leader. Uno che si metteva sempre in prima linea per il bene della squadra. In questo periodo che stiamo lavorando insieme sta dimostrando ancora una volta, dando continuità a quello che è il suo percorso di vita professionale. È un grande professionista, un grande lavoratore. Sia lui che con tutto lo staff che ha a disposizione, con tutte le persone che lavorano per il Palermo. Eugenio ha meritato la fiducia, così come il suo staff. Sono consapevole al 100% di quanto tiene al Palermo, di quanto tiene alla città, di quanto tiene ai suoi tifosi. Lo vivo giornalmente e sono sicuro che darà il massimo per ottenere l'obiettivo comune. In questo anno abbiamo creato un'area scouting interna di altissimo livello. In più abbiamo la fortuna di essere supportati dal City Football Group, che ci mette a disposizione il suo network per essere ancora più competitivi e alzare il livello. Comunque tutte le scelte finali vengono prese a livello locale. Questo perché il City Football Group si fida di noi. Poter contare sull'apporto dei nostri tifosi è sempre qualcosa di speciale. Anche quest'anno hanno dimostrato di essere presenti in maniera importante con 12.000 abbonati, con 23.000 spettatori alla prima partita casalinga. Per me è sempre un'emozione davvero speciale, sin da bambino, da tifoso del Palermo, da calciatore, da dirigente adesso. Credo che sia una piazza unica in Italia. Lo dimostra anche quando ci spostiamo e andiamo a giocare fuori casa. Tutti i palermitani, i tifosi del Palermo che stanno in giro per l'Italia, ci seguono numerosi. Noi siamo veramente orgogliosi ai ragazzi e tutti noi lo avvertiamo. La gente di Palermo merita solamente una cosa, è della Serie A. Noi sicuramente lavoreremo duramente per poter regalare anche a loro questo sogno bellissimo.